Oggi è una giornata importante che ci vede come flag partecipare a questo importantissimo evento di valorizzazione e di promozione della cipolla di Tropea, un prodotto che da solo riesce a trascinare l'economia agricola di un intero territorio e su cui il sindaco stia puntando in maniera veramente forte perché la cipolla di Tropea oramai è conosciuta a livello mondiale, ma credo che non bisogna finire mai di valorizzarla anche sotto l'aspetto della valorizzazione scientifica considerato che ha delle peculiarità in questo settore che secondo me meritano ancora di più di approfondire. Grazie